Sì, diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè strappare il fattore campo adesso chiaramente viene il difficile perché San Vendemiano è una squadra ottima e anche ben allenata e quindi non dobbiamo perdere l'occasione soprattutto gara 3 sarà fondamentale per indirizzare la serie e magari mettere noi stavolta pressione agli avversari. Speriamo che venga sempre più gente che ci dimostrino proprio il calore che ci serve per riuscire a performare ad alto profilo perché sappiamo benissimo che dietro le grandi squadre ci sono dei grandi pubblici e speriamo in quello che facciano sentire la loro presenza già in alcune partite hanno dimostrato di essere parte integrante con noi e noi vogliamo essere parte integrante del nostro pubblico e quindi speriamo di dare soddisfazioni e che ci aiutino a dare queste soddisfazioni. Nelle transizioni difensive dobbiamo essere più precisi e soprattutto non farli correre da situazioni di palla persa tanto più se sono palle perse evitabili e quindi non forzate dalla loro difesa.